Io vedo, vedo e non vedo. Mi faccio i fatti miei, che si vede gente con le macchine che vengono a scaricare spazzatura. La gente vede, sa, ma ha paura di parlare. I pirati dello scarico abusivo fanno paura a pianura. La cittadinanza da mesi prova a denunciare tra bisbigli e foto accennate sui social una situazione di emergenza igienico-sanitaria generata, dallo sversamento illegale in pieno centro e nell'immediata periferia di campagna, di rifiuti di ogni genere, anche a mianto. Nel pieno centro del quartiere una discarica di vaste proporzioni si è formata, all'esterno della scuola per l'infanzia Vittorino da Feltre, a due passi dal parco urbano pubblico oramai chiuso Falcone e Borsellino. Preumatici, frigoriferi, materiali di risulta di lavori domestici e tal quale riempiono il marciapiede di fronte alla scuola elementare, topi, blatte, insetti e cattivo odore sono fissi 24 ore al giorno, le mamme e i cittadini sono esasperati. E dire, quel comune non fa niente, è abbandonato a pianura, non so che dire. Una discarica di fronte a una scuola è una vergogna. Una cosa orrenda da vedere, soprattutto quando poi ci sono dei bambini e potrebbe essere uno spazio utilizzabile per mille e infinite altri modi. Vengono col camion, però prima, tanti anni fa, stavano i coquiri là che spazzano. Gli spazzini venivano? Sì, ma non più. Basta spostarsi poi in linea d'aria, a due chilometri, che a ridosso delle campagne dove spiccano le vigne di Falanghina, ecco spuntare un'altra mega discarica. Siamo ai Pisani, in una zona nascosta e ottimo sversatorio per i delinquenti dello scarico. Qui campeggia una vera e propria montagna di rifiuti di ogni tipo, da vernici a pneumatici, passando per generi alimentari scaduti, ma soprattutto a mianto, anche sbriciolato. Una bomba ecologica pericolosissima, soprattutto se a breve, sarà data alle fiamme quella montagna, per fare spazio ad altri sversamenti illegali.